buonasera ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it iniziamo dalla cronaca in particolare dal fenomeno dello spaccio nelle zone boscose andiamo a marnate dove un sopralluogo di forze dell'ordine volontari dotati di metal detector ha consentito di portare alla luce un vero e proprio arsenale nascosto nella vegetazione tutti i dettagli nel servizio di veronica de riu hanno trovato un macete due pistole due telefoni cellulari due power bank un vecchissimo fucile inutilizzabile delle cartucce e questo bottino dei 30 volontari dell'associazione metal detecting che coordinati dei carabinieri della stazione di gorla minore hanno passato al setaccio i boschi della droga di marnate sabato 21 gennaio dalle 8 a mezzogiorno l'associazione ha chiesto tramite l'amministrazione di bettigalli di poter svolgere un'esercitazione in un'area da sempre sotto i riflettori delle forze dell'ordine ogni angolo del bosco è stato scandagliato da militari polizia locale protezione civile volontari dell'associazione metal detecting che hanno usato le apparecchietture speciali per rinvenire armi che poi sono state poste sotto sequestro l'iniziativa si colloca all'interno della lotta alla criminalità nei boschi accendi il bilanciamento imposti i programmi per quello il tipo di ricerca che si fa si discrimina il ferro o no e poi si inizia il primo segnale se è buono si scava se non è buono che è ferroso niente poi la spazzatura si tira su la buca si tappa si guanti scarponi attenti alle siringhe soprattutto quello poi andando con le forze dell'ordine non si tocca niente perché ci pensano loro si chiamano subito loro in caso di ritrovamento di oggetti in seguimento da saronno a rovello porro e poi l'incidente la fiat 500 rubata con tre giovani a bordo non ha rispettato il semaforo rosso tra via stoppani e via miola ha provocato un tamponamento ha proseguito la sua marcia e ha concluso la corsa speronando lo spartitraffico di via dei caduti a rovello era tallonata dalle pattuglie della polizia locale saronnese e dei carabinieri della stazione cittadina uno dei tre un diciannovenne è stato bloccato subito un altro è scappato a piedi ma si sono già scoperte le sue generalità mentre il terzo è in fase di identificazione curioso incidente questa mattina a castellanza un camion della nettezza urbana dell'azienda sieco ha rischiato di precipitare dal ponte sul fiume olona l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 quando il mezzo pesante è uscito dalla carreggiata per causa in corso d'accertamento e ha sfondato la cinta di protezione alato restando in bilico sul ponte tra via binda e via dei mulini il camion compattatore è finito con la cabina di guida pericolosamente sospesa tra la strada e il fiume sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso il conducente aiutandolo ad uscire dal veicolo oltre a un'ambulanza e le forze dell'ordine a barese torna a protestare il comitato in difesa di via selene che si oppone alla realizzazione della tangenzialina voluta dall'amministrazione comunale ce ne parla elisa polveroni immagini di angelo puricelli dell'agenzia blitz nuova protesta da parte del comitato difendiamo via selene il gruppo di cittadini che si batte contro il progetto della tangenzialina fra la rotonda della nuova selunga e la zona di gazzada secondo questi cittadini che sono tornati a riunirsi oggi sabato 21 gennaio l'opera sarà una cementificazione che andrà a minacciare uno degli ultimi polmoni verdi della città verso la palude stoppada in strada insieme ai promotori della protesta anche l'ex vice sindaco daniele zanzi e il consigliere comunale luca paris il comune difende l'opera perché fa parte di tutto il nuovo piano del traffico di alleggerimento dell'uscita autostradale mentre questi cittadini che protestano da tempo sono convinti che l'opera penalizzerà l'intera zona considerata preziosa dal punto di vista ambientale così si distruggerà un ambiente unico dicono in coro sempre a varese questa mattina convegno sulla medicina contro le marginazioni organizzato da sanità di frontiera al salone estense ecco il servizio di angelo perna non chiamate la emergenza ma gestione dei fenomeni migratori sul territorio lo ha detto roberta bertoni storica operatrice della cooperativa lotta contro le marginazioni questa mattina varese in un salone estense gremito per il convegno prendersi cura delle persone immigrate ed emarginate l'iniziativa organizzata da sanità di frontiera e rete varese senza frontiere è stata un momento di confronto tra associazioni e istituzioni su un fenomeno sempre più diffuso la presenza in città di immigrati ed emarginati un popolo silenzioso e invisibile con cui le associazioni presenti laiche e religiose fanno i conti ogni giorno Filippo Bianchetti tra i fondatori di sanità di frontiera ha elencato i primi immigrati e richiedenti asilo poi i profughi afghani i siriani fino ad arrivare agli ucraini suora Anna Maria Brambilla che dirige il centro di via Luini ha parlato di 400 pasti distribuiti ogni giorno non mancano uomini e donne con problemi psichiatrici punto di riferimento su questo fronte l'ambulatorio di sanità di frontiera le varie realtà operanti a Varese con una sede o direttamente in strada continuano ad offrire cibo, vestiario e soprattutto cure e medicine per fronteggiare quella che non è più un'emergenza ma una realtà consolidata e ora passiamo alla pagina sportiva mentre a Varese sul ghiaccio della 5 Ice Arena sono in corso le Final Four di Coppa Italia di Hockey con i mastini in campo tra pochi minuti contro la Piano nella speranza di garantirsi un posto nella finale di domani sera per il calcio è stata una giornata amara in casa Propatria Tigrotti battuti nettamente allo Speroni dal Padova ecco le immagini di Domenico Ghiotto sulla gara odierna commentata da Luca Spriano perde, protesta e s'arrabbia la Propatria il Padova passa allo Speroni davanti a più di 700 spettatori con un punteggio largo 3-0 ma sul match pesa come un macigno l'espulsione del difensore Saporetti dopo poco più di un quarto d'ora il cartellino rosso arriva dopo 17 minuti per un intervento falloso su Liguori interpretato dall'arbitro Mastro Domenico di Matera come interruzione di chiara occasione da rete decisione contestatissima che obbliga i bianco-blu ad una gara in salita anche sullo 0-0 la Pro rimasta in inferiorità numerica si arrangia dentro Boffelli fuori Vezzoni tiene il campo con carattere ma appena prima dell'intervallo viene infilata dal colpo di testa di Valentini sugli sviluppi di un corner nello spezzone iniziale del secondo tempo il Padova sfiora due volte il raddoppio con De Marchi nella seconda circostanza l'attaccante ospite centra il palo il 2-0 bianco scudato giunge comunque al 28esimo con Jelenic che mette dentro da distanza ravvicinata nel recupero il Tris Patavino con Radrezza per il definitivo 3-0 e per il basket al via domani il girone di ritorno del massimo campionato l'Open John Metis attualmente quinta forza del campionato e con il roster al gran completo sarà ospite della Dolomiti Trento che la segue in classifica ma che all'andata sbancò Masnago dopo un tempo supplementare Palla 2 alle 17.30 ce ne parla Giuseppe Sciascia, immagini dell'Agenzia Briz Parte da Trento la volata playoff dell'Ope John Metis domani, domenica 22 gennaio la formazione di Matt Brasi inizia il girone di ritorno sul campo dell'Adenomiti Energia diretta rivale dei Biancorossi dalla quale dista due sole lunghezze all'andata Varese incassò la sconfitta di Uber Fard dell'anno 92-94 con una tripla lo scadere dell'overtime di Andres Graziulis dopo una partita che i Biancorossi condussero con scarti anche sopra i 10 punti per 38 minuti abbondanti la voglia del gruppo Biancorosso è quella di reagire e di riprendersi due punti per lanciare la volata verso la postseason dopo aver concluso al quinto posto il girone di andata diretta tv su D-Max alle 17.30 con la coppia varesina Mario Castelli e Andrea Meneghin al microfono per una partita che inaugura un ciclo di ferro per i Biancorossi prima della Coppa Italia di Torino la formazione di Brasi giocherà infatti contro quattro squadre grano battute all'andata dopo Trento arriverà Brescia nell'anticipo di sabato 28 gennaio poi Tortona e il derby con Milano per l'udio del quarto di finale delle Final 8 contro Pesero un ciclo di partite molto delicato che Varese affronta con il ritorno di Justin Reyes da protagonista già contro Napoli per mettersi alla prova al cambio delle big per confermare il suo piazzamento fra le prime otto e sbarcare in Europa nella prossima stagione con questo è tutto appuntamento a domani domenica 22 gennaio a sempre alle 19 vi auguriamo una buona serata Grazie a tutti